Musica Crolla un'ala del cimitero, bare urne nel torrente, scene orribili, quelle che arrivano da Sant'Agata dei Goti nel Sannio dove un'intera ala del cimitero è crollata, finendo in un vallone, trascinando con sé bare e arredi funebri, un dramma provocato dal maltempo delle scorse ore. Esondazioni e allagamenti, domani di nuova allerta, a Napoli crollano calcinacci e impalcature ed è incubo gruppe ricolanti al vomero, nel casertano esondo il Volturno e il sindaco di Castelvolturno avvisa, non ricordo da anni, un'allerta così rischiosa. Maxifrode sui carburanti, 82 indagati nel Salernitano, notificate dalla Guardia di Finanza, 9 misure cautelari, eseguito un sequestro di beni da 136 milioni di euro, in tre anni prodotte fatture false per oltre 900 milioni. A Castel San Giorgio, la sede del sodalizio criminale. Avellino svolta vicina, Manzo ucciso per soldi, stamane l'intervento dell'avvocato Nicodemo Gentile, specialisti nei casi di scomparsa, il pensionato di Prata, sparito da due anni, sarebbe stato assassinato. Il movente è chiaro, dice il legale, che ha incontrato gli inquirenti. Ischia ok ai fondi, ma è scontro in regione, è approvata dalla Camera la conversione in legge del decreto Ischia, stanziati 85 milioni e conferma dei poteri a Legnini. Impegno importante del governo, dice Zinzi, ma De Luca accusa non basta. Scuola e imprese, nuove occasioni per i giovani, nuove tecnologie per il Made in Italy e servizi alle imprese. Per 60 ragazzi tra i 18 e i 35 anni si aprono le porte di una nuova carriera nel marketing e nella internazionalizzazione delle imprese. Buonasera, questi erano i titoli di 8 Channel News in apertura. Andiamo a Sant'Agata dei Goti, scene orribili, quelle che arrivano dal Sagno, un'intera ala del cimitero è crollata, finendo in un vallone e trascinando con sé bare e arredi funebri. Un dramma provocato dal maltempo delle scorse ore. Sentiamo Alessandro Fallarino. Perché è successo? Non ce ne possiamo fare una ragione senza avere spiegazioni. Perché adesso noi siamo laggiù con i nostri cari, in quello strapiombo. Sono circa 90 le bare finite in un torrente dopo il crollo di un'ala del cimitero di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento. È accaduto questa mattina alle porte del paese in Valle Caudina e a provocare il cedimento probabilmente le difficili condizioni meteorologiche delle ultime ore. Ma la struttura era finita al centro di una serie di interrogazioni, anche di un'ordinanza firmata dallo stesso sindaco, ad aprile scorso, proprio a causa della pericolosità di quel manufatto ora crollato. Ed è per questo che ora i familiari dei defunti chiedono spiegazioni e vogliono che i propri cari vengano recuperati al più presto. Come rimarca l'avvocato Alessandro Della Ratta. Spero che la magistratura faccia il suo corso, quanto prima faccia un corso celere nell'accertamento delle responsabilità che certamente ci sono in questo disastro e crollo doloso. Ci sono due anni che i cittadini si rivolgono al comune, ma in vano, a segnalare che ci stava questo slittamento di questo blocco delle nicchie. Quello che interessa adesso è che vengano recuperate le salme, perché la prima cosa deve essere rispetto per i defunti, per i nostri defunti. Bisognava agire in via di urgenza e contempressività, perché quello che è successo oggi non è un qualcosa che si è verificato dalla sera alla mattina. Nel pomeriggio sopra il luogo di vigili del fuoco, ASL e carabinieri che con i tecnici del comune ora devono trovare una soluzione. Intanto il sindaco di Sant'Agata dei Godi con una lettera ha chiesto scusa a nome di tutta l'amministrazione per l'accaduto. A proposito del maltempo, continua in campagna l'allerta arancione. Adesso arriva anche la neve, a Napoli crollano calcinacci e impalcature ed è incubo per una gru pericolante al vomero. Nel casertano esonda il volturno. Sentiamo. Peggiorano le condizioni meteorologiche in campagna con l'arrivo del freddo artico e la neve fino a basse quote con l'allerta che continua di colore arancione. A Napoli continua la conta dei danni tra alberi caduti al suolo, crollo di calcinacci ed impalcature per le forti raffiche di vento e tempeste di pioggia che hanno flagellato la città. Il vento rispetto ad altre zone della città, ma già rispetto ad altre zone del vomero è fortissimo, è come trovarsi una nave in alto mare. E questa gru, ad esempio, nei momenti di vento comincia a roteare, a fare una serie di rumori di movimento di catene, di altri aspetti meccanici che ovviamente destano preoccupazione e paura da parte dei residenti. E intanto è previsto per le prossime ore l'arrivo del freddo polare e neve fino a 400 metri, ma non solo, previsto anche mare grosso e rischio frane, a partire da mezzogiorno di domani e fino a sabato. Esonda il fiume Volturno con strade allagate e comuni sott'acqua e l'allerta è massima in molti comuni. In alcuni tratti è sondata pure la parte dello scolmatorio dell'acqua, quindi ci sono delle strade e anche delle zone dove effettivamente è arrivata pure a un livello di circa 40-50 centimetri d'acqua. C'è bisogno di un costante controllo del territorio perché purtroppo sappiamo che soprattutto da 40 anni a questa parte questi territori sono stati soggetti a grande depretazione, sacchiggio e quant'altro. Nel salernitano si deve registrare l'esondazione del fiume Sele ed è virale un video che ritrae dei cinghiali cercare di mettersi in salvo nuotando nel corso d'acqua. Antonio Vuolo. Il fiume Sele resta osservato speciale a sud della provincia di Salerno in seguito all'ondata di maltempo che negli ultimi giorni sta interestando l'intero territorio regionale. Il corso d'acqua è tracimato in più punti allagando campi ed abitazioni tra Ponte Barizzo e Gromona nella territorio di Capaccio Pestum. La situazione è al momento sotto controllo ma resta massima l'attenzione con il centro operativo comunale in piena attività. Ha fatto il giro del web e dei social anche il video dei cinghiali che nuotano spinti dalla corrente dopo l'esondazione dello stesso fiume. A fare il punto della situazione è il primo cittadino della città dei Templi, Franco Alfieri. Ci sono alcuni aspetti di fragilità del nostro territorio e quindi sempre nello stesso punto quando si supera un margine di oltre i 10 metri del fiume Sele abbiamo un allagamento che riguarda alcune abitazioni però ovviamente stiamo lavorando affinché ci siano interventi risolutivi però credo che sia tutto sotto controllo. Si tratta di quattro abitazioni tra Ponte Barizzo e Gromona però è il lato più fragile su cui bisogna intervenire rapidamente. Procedendo lungo la costa è stato soprattutto il mare in burrasca a causare non pochi danni. Sul lungomare di Casalvelino una struttura balneare è stata praticamente inghiottita dalle onde mentre sulla spiaggia di Baia Arena a Monte Corice è stata trascinata dal mare una delle boe di segnalazione della vicina area marina protetta di Santa Maria di Castellabate. Nel Vallo di Diano infine vigili del fuoco di Sala Consilina in azione a Polla per liberare il fiume Tanagro ostruito dalla presenza di un grosso albero in prossimità di un ponte che attraversa il centro urbano. E disagi anche in Irpinia dopo la frana a Cassano, Lofantina resta chiusa fino a fine gennaio e poi verrà istituito un senso unico alternato per ripristinare la circolazione. Vediamo. Proseguono gli interventi dell'ANAS su Lofantina, la strada di collegamento tra Avellino e l'Alta Irpinia a seguito del cedimento di un terrapieno nel territorio di Cassano Irpino che ha portato alla chiusura dell'arteria stradale. Gli operai dell'ANAS stanno portando avanti le attività di sgombero e di pulizia del materiale dalla strada con l'esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza. Anche grazie al miglioramento delle condizioni meteo sono già state ultimate una serie di attività come l'implementazione della segnaletica per la deviazione in loco. Una volta completato un primo intervento di messa in sicurezza nell'aria a fine gennaio la circolazione verrà ripristinata con l'attivazione di un senso unico alternato. Per il presidente della provincia di Avellino, Rizieri Buonopane quello del dissesto idrogeologico è un problema ereditato dal passato quando c'è stata poca manutenzione. Ovviamente è un disagio enorme, è l'arteria principale che collega l'alterpini al capoluogo quindi con tantissimi disagi già registrati nel corso della giornata mi auguro che l'ANAS possa essere tempestiva e attenta. Abbiamo avuto una serie di danni su diversi luoghi Pietrastornina, ancora stamattina Rocca Bacerana, Santa Polina la provincia ha fatto degli interventi immediati di messa in sicurezza ovviamente poi occorre programmare interventi strutturali e molto seri. Il tema del dissesto in generale è un tema serio che va affrontato e frutto anche di mancanze del passato perché il territorio non è stato curato. A questo poi si aggiunge un altro aspetto molto spesso sono i fondi privati che incidono sui danni che possono derivare poi alla viabilità ed è un ragionamento, è chiaro, che è sul tavolo. Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato alle 9.44 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei l'epicentro è stato localizzato dall'osservatorio Vesuviano nei pressi della Solfatara a una profondità di 3 km scossa che è stata avvertita dalla popolazione residente nei pressi dell'epicentro in particolare nel comune di Pozzuoli ma anche nei quartieri Flegrei del comune di Napoli come Bagnoli e Agnano non si registrano danni a persone o cose. Maxifrode fiscale sul commercio dei carburanti notificate dalla Guardia di Finanza di Salerno nuove misure cautelari 82 gli indagati. Sara Butte Grazie al fiuto del cane giambo il cash dog della Guardia di Finanza di Salerno sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 1,8 milioni di euro in contanti la scoperta è stata fatta durante le perquisizioni eseguite in mattinata nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Nocera Inferiore legata alla maxifrode fiscale nel settore della vendita dei carburanti le banconote erano state nascoste in zaini, busse di plastiche e scatole e secondo gli investigatori erano nella disponibilità di due degli indagati gli ulteriori sviluppi dell'inchiesta inoltre hanno portato la Procura di Nocera a disporre il sequestro di un hotel-ristorante a Montoro i finanzieri hanno anche scoperto irregolarità nella cessione di un resort da 2,5 milioni di euro che vede coinvolte alcune delle società al centro dell'inchiesta l'indagine nel complesso ha portato ad un maxi sequestro da 136 milioni di euro all'alba sono state notificate nove misure cautelari quattro arresti domiciliari e cinque divieti di dimora nelle province di Salerno, Avellino e Roma l'inchiesta nella quale sono coinvolte 82 persone si è concentrata sui promotori e gli organizzatori di un'associazione a delinquere con base a Castel San Giorgio che avvalendosi di 12 società avrebbero messo in piedi una megafrode carosello tra il 2017 e il 2020 sarebbero stati in grado di produrre fatture per operazioni inesistenti per oltre 900 milioni evadendo il pagamento di oltre 160 milioni di euro di IVA Servizio del collega Filippo Notari cambiamo argomento sembra davvero vicina la svolta sul caso Manzo l'uomo scomparso in Irpini a due anni fa questa mattina in caserma ad Avellino l'avvocato Nicodemo Gentile esperto nei casi di scomparse vediamo C'è un primo punto fermo per il caso di Domenico Manzo l'uomo scomparso da Prata a gennaio di due anni fa dopo due anni quindi prende corpo il movente del suo omicidio a sottolinearlo l'avvocato Nicodemo Gentile presidente dell'associazione Penelope che questa mattina ha incontrato gli inquirenti ad Avellino mi è stato ucciso è successo qualcosa quella notte siamo sicuri e convinti che il movente sia legato a una questione economica a una questione che riguarda il mondo purtroppo torbido dei rapporti della droga e in quella serata di droga non è circolata in quella casa perché ci sono testimonianze che lo dicono con forza e quindi la famiglia vuole delle risposte purtroppo l'indagine si sta scontrando con un muro ermetico di omertà questo ci dispiace che in un posto così piccolo Mimì sia stato abbandonato da tutti e la gente che frequentava quella casa e che si è gabbellata per anni per amico l'avvocato della famiglia Manzo Federica Renna ha invocato un'accelerata sulle indagini sicuramente ad oggi se avessimo avuto quelle famose telecamere che si sono cancellate sono state cancellate non lo sappiamo il caso si sarebbe già chiuso noi ripetiamo un'archiviazione per un caso del genere assolutamente quindi come famiglia ma soprattutto come legale di Romina non esiste 85 milioni di euro dal governo per Casamicciola c'è il sì al primo decreto vediamo raddoppio dei fondi per gli interventi di messa in sicurezza del territorio che passano da 40 ad 85 milioni di euro e conferma dei poteri a Giovanni Legnini quale commissario del governo per l'emergenza idrogeologica in aggiunta a quelli che già deteneva per la ricostruzione post terremoto con 170 voti a favore 114 astenuti nella tarda serata di ieri è stata approvata alla Camera dei Deputati la conversione in legge del decreto Ischia è un primo passo un po' importante 85 milioni di euro sono una somma record in meno di 60 giorni e consentono al commissario straordinario di avviare le attività quindi di far ripartire Ischia critico il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che definisce comunque insufficienti gli 80 milioni stanziati dovremo continuare la battaglia dice De Luca per sensibilizzare il governo per spiegare che se vogliamo affrontare seriamente i problemi dell'isola c'è bisogno di avere misure adeguate e oggi non le troviamo ma la maggioranza difende il decreto intanto il governatore comincia a stanziare delle risorse per Ischia assieme al governo il governo ha messo sul piatto 85 milioni con un grande lavoro del Parlamento ritengo che le polemiche non servano e siano utili solo per i social evidentemente De Luca è più interessato ai social che a Ischia in campania 7 edifici scolastici su 10 senza collaudo e agibilità a lanciare l'allarme legambiente vediamo in campania 7 edifici su 10 non dispongono ancora del certificato di collaudo statico 8 su 10 manca quello di agibilità lo dice il 22esimo rapporto di legambiente ecosistema scuola che punta i riflettori su menze e palestre inadeguate ma anche sul rischio sismico degli edifici nel dossier di legambiente ecosistema scuola le scuole campane presentano ancora delle criticità che da circa 22 anni noi di legambiente denunciamo l'assenza di certificati di collaudo statico in molti degli istituti indagati oggetto dell'indagine l'assenza di certificati di agibilità la mancata costruzione con tecniche antisismiche nelle zone sismiche 1 e 2 tutti questi aspetti sono sicuramente preoccupanti e ci restituiscono una fotografia poco rassicurante dello stato di salute dei nostri istituti scolastici ma abbiamo fiducia nei fondi del PNRR destinati alla costruzione di nuovi istituti scolastici che nel mezzogiorno saranno il 42,4% di quanto stanziato questo ci dà la fiducia e la speranza di avere degli istituti finalmente innovativi in cui si utilizzino energie rinnovabili e in cui i nostri giovani i nostri studenti grandi e piccoli possano finalmente trovare un ambiente educativo sicuro e adatto alle loro esigenze Il rischio dell'autonomia differenziata ma anche il cattivo utilizzo dei fondi del PNRR elementi che rendono fosco il futuro delle aree interne secondo il presidente Svimez Giannola ospite della CGL nel Sannio Cristiano Vella I pericoli dell'autonomia differenziata ma anche le trappole sono quelle di cui ha parlato il presidente Svimez Adriano Giannola al congresso della CGL FP nel Sannio e quanto alle trappole c'è la questione spesa storica che hanno evidenziato tutti i governatori del sud e che Giannola rimarca che se la campagna c'è 13.000 euro di spesa pubblica pro capita all'anno e la Lombardia c'è una 18.000 e quindi insomma qualche differenza c'è E secondo Giannola il problema evidente è anche quello relativo a una concezione sbagliata del mezzogiorno che oggi dovrebbe essere centrale nelle strategie e invece un nord sempre più in crisi lo considera quasi una palla al piede C'è una sfiducia totale il mezzogiorno non serve se ci si potesse liberare sarebbe meglio questo detto in soldoni senza capire che il tempo cambia che il baricentro sta cambiando completamente che è il sud che diventa ora strategico per l'Europa e che quindi questa è l'occasione per riprendere quello che fu fatto negli anni 50 e 60 quando fu il mezzogiorno ad aiutare il nord a fare il miracolo economico italiano altro che palla al piede nuove tecnologie per il made in italy e i servizi alle imprese per 60 ragazzi tra i 18 e i 35 anni si aprono le porte di una nuova carriera nel marketing e nella internazionalizzazione delle imprese con il progetto Gragnano Academy sentiamo di cosa si tratta l'Academy Gragnano nuove tecnologie per il made in italy al servizio delle imprese e del mondo della scuola per 60 ragazzi tra i 18 e i 35 anni si aprono le porte di una nuova carriera grazie a tre corsi di formazione potranno apprendere gli strumenti per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese per la realizzazione del design del packaging e la digital strategy aziendale nasce quindi una vera e propria Academy degli ITS che punta a formare figure professionali specialistiche di cui il mercato del lavoro ha necessità e che rappresenta per il territorio campano un'occasione di sviluppo di grande valore il 90% di loro finito il percorso riesce immediatamente a trovare lavoro perché si coinvolgono le imprese gli enti locali le scuole insomma un ottimo sistema per una campagna che possa rilanciare il tema del lavoro tra i giovani le imprese di Gragnano in ambito enogastronomico ancora più come tutti sappiamo della pasta sono competitivi non solo a livello locale ma a livello mondiale inevitabilmente per raggiungere questi livelli di competitività c'è bisogno di competenze e noi proprio su questo puntiamo e speriamo che attraverso l'ITS i giovani e soprattutto giovani del territorio tendano ad assimilare sempre più delle competenze richieste dall'impresa l'ITS colma quel gap che c'è in Italia tra diploma e laurea quindi ragazzi professioni in cui non c'è bisogno di essere laureati possono qualificarsi nell'ITS a Salerno vertice in comune tra gli amministratori e le sigle che rappresentano il commercio per stilare la programmazione degli eventi 2023 notari razionalizzare le risorse e promuoverle al meglio per aumentare l'appel turistico di Salerno è la nuova sfida a cui guarda con ambizione l'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Napoli che anche in vista della bit di Milano la fiera del turismo sta realizzando una serie di incontri a palazzo di città dopo essersi interfacciata con gli operatori culturali è toccato ai rappresentanti delle sigle del commercio promuovere le proprie idee a seguire saranno ascoltati anche i delegati del settore alberghiero ed extra alberghiero noi a Salerno facciamo moltissime iniziative c'è bisogno di un filo rosso conduttore che le renda da un lato percepibili ai turisti e ai concittadini dall'altro crei una razionalità di scelte l'obiettivo del comune è aumentare ancora di più il numero di presenze in città attraverso una programmazione di eventi ben strutturata creare le condizioni affinché chi ha visitato Salerno possa tenersi aggiornato e magari essere tentato credo che questo succeda spesso di ritornarci e anche ai nostri concittadini avere una loro guida un bedecar che consenta loro di assistere a quanto si fa in città nel settembre accogliamo gli spunti che ci vengono appunto stare per dire dalla produzione dagli operatori dei vari segmenti parliamo dei trasporti in Irpinia svolta vicina per l'elettrificazione della linea ferroviaria Salerno Avellino Benevento sentiamo tra un anno riaprirà la stazione ferroviaria di Avellino con l'elettrificazione della linea Salerno Avellino Benevento la rassicurazione arriva dal delegato ai trasporti della regione Campania Luca Cascone che ha partecipato ad Avellino al congresso della Filt CGL Irpina gli incontri con RFI sono mensili sul quale la regione chiede sempre il rispetto dei cronoprogrammi e se è possibile addirittura l'anticipazione come abbiamo detto un po' di tempo fa per quest'estate dovrebbe aprirsi la tratta fino a San Severino e subito dopo si aprirà il collegamento per Avellino quindi siamo alle battute finale agli ultimi 12 mesi di lavoro speriamo che il prima possibile possa aprirsi definitivamente questa tratta interamente elettrificata Il sindaco Festa chiede il rispetto del cronoprogramma della regione per assicurare al capologo Irpino una svolta nella mobilità quanto verso il napoletano Avere un trasporto su gomma verso la fragola che diventa anche un po' la nostra alta velocità da preferire e un collegamento ferroviario verso Salerno per la questione universitaria credo che ci possano consentire ripeto in tempi rapidi perché i tempi oggi sono fondamentali di avere due opzioni strategiche importanti per lo sviluppo di questa città E intanto l'Airo lavora con Trenitalia per un freccialink un biglietto unico gomma treno sulla tratta Avellino a Fragola Roma Ci sarà un unico biglietto Avellino a Fragola autobus a Fragola Roma treno entro la primavera anche questo servizio sarà ripristinato E va bene è tutto per questa edizione di 8 Channel News grazie in regia ad Enrico Coppola vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata arrivederci con Grazie a tutti. Grazie a tutti.